Furto aggravato è l'accusa per la quale è stato arrestato ieri sera un cittadino romeno di 43 anni, sorpreso a rubare in un'abitazione di Villa Gioia, nei pressi della sede del Consiglio Comunale dell'Aquila, resa in agibile dal sisma. Ad intervenire sono stati gli agenti della squadra volante della Questura dell'Aquila, guidati dal dirigente Nicola Di Pasquale. A segnalare l'uomo alle forze dell'ordine è stato un cittadino che ha notato la presenza nella casa di proprietà di un familiare. L'uomo, forzando con degli arnesi da scasso, era riuscito ad entrare nell'abitazione, ma grazie alla segnalazione la polizia è riuscita prontamente a bloccare la fuga del rumeno, che è stato arrestato per furto aggravato. Essenziale, dice la polizia, la collaborazione dei cittadini, utilissima per sventare i furti e collaborare con le forze dell'ordine.